Musica Si è tenuta a Forlì presso il piazzale della chiesa di San Domenico la presentazione dei mezzi ibridi firmata Formula Servizi. Formula Servizi, società cooperativa sempre più green, da sempre impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale. Direttore Rinaldini, Formula Servizi e Futuro, uno sguardo costante ad ambiente ed innovazione. Certo, l'innovazione per noi è fondamentale in tutte le tecnologie che stiamo applicando nei nostri servizi, ma è altrettanto importante che l'ambiente, tutto ciò che noi, le nostre attività che facciamo per l'ambiente, siano al più basso tasso possibile di emissione. Lo dimostra il fatto che risparmiamo oltre 80 milioni di litri all'anno nelle pulizie con le microfibre, 600 mila litri di detergente che non vanno in fogna, produciamo una quantità enorme di energia pulita con le nostre centrali, fino a 700 mila kilowattore, abbiamo risparmiato oltre 300 mila chili di emissioni producendo energia pulita. Le auto che qui vedete sono tutte ibride, nove auto ibride che quando vanno in centro vanno a batteria, quindi sono elettriche e quando vanno fuori ovviamente vanno a benzina. Questo ci ha permesso di risparmiare 52 mila chili all'anno di emissione di CO2. Quindi la giovane Greta, la ragazza svedese che ci sta giustamente facendo ragionare che l'ambiente diventa fondamentale per il nostro e il loro futuro, noi abbiamo dato un contributo notevole in questo senso e continueremo a darlo proprio perché l'ambiente è fondamentale per la vita di tutti i giorni. Teniamo conto che le temperature sono aumentate di 1,2 gradi centigradi, questo fa sciogliere i ghiacci al polo che invece permettono la termoregolazione della terra e 7 milioni di abitanti si sono ammalati e sono morti grazie alle emissioni, non grazie, anzi per colpa delle emissioni. Quindi credo che sia obbligo di tutti lavorare perché l'ambiente sia il più pulito possibile. E quest'oggi, direttore, si è tenuta la presentazione dei mezzi ibridi firmata a Formula Servizi. Certo, l'investimento è un investimento importante, però noi riteniamo che anche la formula fondamentale di abbattere le emissioni sia un atto concreto che tutte le aziende devono fare e noi in particolare sono anni che lo facciamo, però oggi a maggior ragione con questi mezzi possiamo dire che andiamo in centro senza inquinare. Noi abbiamo chiuso il 2018 con 56 milioni di fatturato, con 2050 dipendenti, abbiamo assunto e stabilizzato a tempo indeterminato 150 persone nell'arco del 2018. Credo che siano valori estremamente importanti per anche il nostro futuro. Direttore, le chiedo l'obiettivo prefissato per il 2019. Il 2019 è di aumentare ulteriormente il fatturato e di assumere altre 100 persone. Noi abbiamo già visto che i dati del primo trimestre ci danno un incremento importante di oltre un milione di euro, abbiamo già assunto una cinquantina di persone, contiamo entro giugno di assumerne altre 60 nell'area del Lazio e quindi gli obiettivi che ci siamo prefissati di aumentare di altri 3 milioni di euro il nostro fatturato stanno andando avanti. Tra qualche giorno si torna a parlare di cultura con la festa di Rai da Radio 3 in cui il formato servizio è protagonista. Certo, il 31 maggio 1-2 giugno riparte la Kermess Immaginazione e Realtà da Leonardo all'intelligenza artificiale che ci vedrà impegnati a supportare la redazione della Rai per questo spettacolo straordinario di cultura, di musica e di arte. Monti, presidente Lega Coop Emilia Romagna, quali le proposte, il vostro pensiero in merito allo sviluppo sostenibile e al lavoro? Intanto la cooperativa Formula rappresenta per noi Formula Servizi e tutto il suo gruppo un atto concreto di un obiettivo fondamentale che noi vogliamo portare avanti che è lo sviluppo sostenibile. Credo che le azioni vadano corrisposte in modo puntuale e servano, penso, al riciclo, all'economia circolare che significa i rifiuti come una volta raccolti poi possono essere riutilizzati come risorse. e in questa filiera qua noi impegniamo in Emilia Romagna circa 4.500 persone che sono naturalmente partner di ERA, di IREN e di altre società. Noi abbiamo dentro queste 4.500 persone quasi 2.000 persone che sono portatrici di una qualche problematica quindi svolgiamo oltre che dare lavoro dalla filiera anche un ruolo di alto valore sociale che vorremmo mantenere anche per i prossimi anni e non è sempre facile e semplice fare questo però troviamo nelle amministrazioni comunali, negli enti una forte sensibilità da questo punto di vista e quindi guardiamo al futuro, a questo futuro in modo importante. È evidente che prima di arrivare al riciclo bisogna fare per essere davvero sostenibili delle azioni che risparmino energia, che risparmiano acqua, che risparmino prodotti da buttare. Per esempio nella nostra grande distribuzione sia Coop che Conad con i progetti che ci sono vengono restituiti diversi milioni l'anno alle Caritas e a vari enti per dare sfogo a quei prodotti che sono scatole ammaccate oppure che hanno qualche settimana di scadenza quindi senza buttare ma dare un servizio alle popolazioni che hanno più bisogno. Abbiamo realizzato con la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della legge 16 che riguarda appunto la sostenibilità, diversi protocolli che si muovono in questa direzione. Per cui sostenibilità, sviluppo sostenibile e lavoro sono binomi che possono andare insieme e possono davvero produrre oltre che una qualità dello stare in questo nostro mondo che ha problemi climatici gravi, che ha problemi di recupero dei rifiuti importanti e cerchiamo di esserci non solo con lo slogan noi vogliamo essere sostenibili che va sempre bene ma con delle azioni concrete e mirate. La cooperativa Formula Servizi è una di queste nostre cooperative insieme a tante altre che producono questo scatto del fare piuttosto che del dire solo e di questo siamo molto lieti e siamo molto onorati. Presidente Monti, sostenibilità ambientale, sviluppo occupazionale, si può parlare di terza rivoluzione industriale? Sicuro, terza rivoluzione industriale. L'innovazione per noi rappresenta anche l'innovazione digitale che è uno dei caratteri fondamentali della nuova fase industriale rappresentano per noi un obiettivo concreto ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando insieme con le altre associazioni abbiamo creato un centro, il Digital Innovation Hub a livello nazionale con il Ministero stiamo lavorando a livello regionale per costruire dei centri di competenza che riguardano l'innovazione e per noi l'innovazione è anche qui sempre fatta nella logica di sostenibilità di più sostenibilità ma anche innovazione pensata per non lasciare indietro nessuno il robot per noi non è un nemico ma deve essere motivo per tempo per trasformare i nostri lavoratori e la loro professionalità in termini di formazione in termini di qualità del rapporto con la cooperativa e quindi per noi la rivoluzione industriale nuova basata sull'innovazione rappresenta e può rappresentare un'opportunità se fatta con la nostra gente i nostri soci e i nostri lavoratori Formula Servizi Lega Coop quale è la finalità di tale connubio per quest'anno? la finalità è di una cooperativa di un gruppo che comunque sta dentro ad una filiera che è quella ambientale che è quella sociale quello delle pulizie che rappresenta uno dei nostri gruppi più importanti a livello nazionale rappresenta un'impresa che sta producendo risultati importanti lavoro e remunerazione del lavoro corretta contratti, remunerazione oltre i contratti che vengono dagli utili anche quest'anno distribuiti alla nostra gente ai soci e ai lavoratori della cooperativa Formula Servizi rappresenta quindi per noi un'impresa che ha una sua efficienza una sua efficacia che però non separa mai con la forte volontà di essere una cooperativa è un'impresa che è un'impresa è un'impresa che è un'impresa è un'impresa che è un'impresa che è un'impresa che è un'impresa